Interviene ora il professor Dino Giovannini, professore ordinario del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane che terrà la prolusione dal titolo Università e mondo del lavoro, il ruolo della psicologia e delle scienze sociali per costruire una comunità coesa. Magnifico Rettore, signor Presidente di Confindustria, magnifici Rettori, autorità tutte, gentili colleghe e colleghi docenti e non docenti, cari studenti e studentesse, signore e signori, con questa prolusione cercherò di fornire elementi a supporto delle necessità non più derogabili di lavorare insieme per capire come caratterizzare la relazione fra Università e mondo del lavoro al fine di affrontare in modo adeguato i rilevanti cambiamenti in atto. Un lavoro questo da fare insieme in un'ottica di comunità allargata, a prescindere dalle diverse appartenenze a realtà istituzionali e organizzative, dalla specificità disciplinare, dall'appartenenza dipartimentale o dal fatto di essere imprenditori, amministratori della cosa pubblica piuttosto che policy makers. Partirò di alcune considerazioni generali formulate in un'ottica inevitabilmente condizionata dal fatto che sono io uno psicologo cui è toccato in sorte di essere il primo psicologo sociale strutturato nella storia di questa nostra Università di Modena e Reggio Emilia dopo essere già stato, vent'anni fa, il primo psicologo sociale strutturato nella storia della ben più giovane Università di Trento. È innegabile che le due realtà a cui fa riferimento il titolo di questa prolusione, l'Università e il mondo del lavoro, da intendersi quest'ultimo in senso lato come mondo della produzione dei servizi, siano caratterizzate non solo da un rapporto di connessione ma addirittura da una relazione di stretta interdipendenza. L'Università prepara laureati con conoscenze e competenze da utilizzare nei vari settori e ambiti lavorativi per lo svolgimento di ruoli anche dirigenziali. Il mondo della produzione dei servizi fornisce posti di lavoro qualificati per i laureati di cui peraltro ha bisogno. Un cambiamento produttivo all'interno di una delle due realtà si ripercuterà inevitabilmente sull'altra e viceversa, con effetti di ricaduta nel medio e lungo termine sullo sviluppo del territorio. Questo vale sia per i processi formativi sia anche per la ricerca. Quali le forme più adeguate per lavorare insieme, cioè per concertare insieme le soluzioni più adeguate ai bisogni e ai problemi esistenti sia all'interno dell'Università sia nella nostra realtà territoriale emiliana? A questo proposito occorre ricordare che ognuno di noi ha in termini identitari molteplici appartenenze. La teoria dell'identità sociale, che è la teoria di riferimento usata dagli psicologi sociali per spiegare le relazioni che avvengono sulla base dell'identità principale di cui tutti noi disponiamo, ci insegna che i comportamenti sociali degli individui sono caratterizzati dall'agire per se stessi oppure dall'agire in favore del proprio gruppo. Nella condizione in cui si agisce per se stessi prevale l'interesse individuale. Vi sono tuttavia identità sociali come l'appartenenza a un gruppo di ricerca o a un reparto di produzione che sono molto importanti per le persone. In questo caso gli individui agiscono sulla base di queste identità in modo da favorire o comunque cercare vantaggi per il proprio gruppo, sino al punto di arrivare, per farlo prevarere, ad un'aperta competizione con un altro o con altri gruppi. Tradotto in esempi concreti è facile prevedere gli esiti deleteri prodotti da una competizione spontanea o indotta o da conflitti esistenti fra gruppi disciplinari diversi, fra dipartimenti, fra settore di un'azienda o fra servizi di un ente pubblico. Nelle situazioni in cui le risorse scarseggiano si possono determinare situazioni in cui c'è chi riesce ad avvantaggiare il proprio gruppo e di rimando a se stessi rispetto ad altri gruppi. Ma se in un Ateneo alcuni dipartimenti vanno bene e altri no, l'Ateneo non può certo andare bene e questo è tanto più vero alla luce delle recenti normative che valutano l'Ateneo su una serie di parametri oggettivi. Analoghi effetti si determineranno in una situazione aziendale. Se il settore della produzione raggiunge delle eccellenze, ma il settore vendite o il magazzino perdono dei colpi, l'azienda non può certo andare bene. A proposito della competizione è utile ricordare che un elevato livello di fidelizzazione spesso ritenuto dalle aziende o in azienda un obiettivo prioritario può produrre un aumento della competitività e della conflittualità a livello sia interindividuale sia intergruppi. Si può a ragione sostenere che i tempi della competizione come strumento per aumentare la produttività nei vari ambiti lavorativi siano tramontati. La competizione prefigura di per sé la condizione in cui c'è chi va bene e chi al contrario va meno bene o va male. La teoria dei giochi e in particolare il dilemma del prigioniero ci hanno dimostrato che ci sono situazioni in cui Fortunatamente, mano a mano che gli anni passano, la maggior parte delle persone impara ad accorgersi di quanto sia inutile ma anche illogico e allineante essere individualisti e competitivi. Ebbene, sono fermamente convinto che vi siano molteplici ragioni sia negative come l'attuale pesante crisi economica, sia positive come la collocazione territoriale del nostro Ateneo e i progetti finora realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e dei servizi a sostegno della necessità di utilizzare tutte le strade possibili affinché il territorio abbia l'occasione di lavorare a progetti anche ambiziosi insieme ad Unimore. Non dimentichiamo che i grandi obiettivi, così come gli obiettivi sovraordinati, costringono a unire le forze e producono iniziative a cascata ed effetti positivi, come ad esempio, oltre ad una maggiore produttività, una più elevata qualità delle relazioni e un aumento del livello di benessere individuale, tutti fattori che si influenzano reciprocamente. Occorre dunque che nell'ambito delle varie comunità in cui si producono ed erogano ad esempio conoscenze e saperi, competenze, lavoro, servizi, si assumano i principi guidi della collaborazione e della cooperazione, del dialogo, della partecipazione attiva e della qualità dell'ambiente, che significa qualità delle relazioni. Cosa fare affinché alla nostra Università il mondo della produzione e dei servizi costruiscono in sinergia occasioni di azioni comuni? Vi sono diversi aspetti sui quali occorre soffermarci un attimo a riflettere. Il primo aspetto concerne la precarizzazione del lavoro, un dato estremamente allarmante, non tanto e non solo per la percentuale altissima di giovani non occupati o disoccupati, ma per le implicazioni psicologiche ed esistenziali che la precarizzazione del lavoro comporta. Tutti noi, nei vari passaggi cruciali della nostra vita, ci siamo chiesti se ce l'avremmo fatta, se avevamo le capacità per farcela. Ebbene, nel momento attuale, per i giovani e per i nostri studenti, è tutto davvero molto più difficile, perché il traguardo di una laurea, sogno sempre sognato o agognato per molti, non è più sinonimo di garanzia per ottenere un buon posto di lavoro. Oltre a quello di fare ricerca, fra i compiti che dobbiamo assolvere come attenere o come docenti, vi è certamente quello di far crescere i nostri studenti come persone, di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro e di facilitare i possibili sbocchi lavorativi attraverso un rapporto con il territorio. Questo rapporto rappresenta un punto di snodo cruciale e va creato con il trasferimento di conoscenze da caratterizzarsi anche come costruzione sociale di conoscenza. Infatti, mentre chi opera sul campo connota questo trasferimento come tecnologico, noi dobbiamo avere ben chiaro che c'è un trasferimento delle conoscenze nella misura in cui si riesce a costruire tutti insieme un linguaggio comune, basato sulla condivisione degli obiettivi e delle priorità necessarie per costruire delle buone pratiche. Un trasferimento dunque che si fonda sulla promozione dei processi partecipativi, sul fatto di individuare obiettivi comuni e di parlare delle stesse cose. Questo percorso consente tra l'altro di superare i limiti della formazione universitaria e aziendale a pacchetti preconfezionati, la cui caratteristica è purtroppo quella di fare prima i piani formativi per poi applicarli. Strategie formative queste che presuppongono che la realtà, i modelli per interpretarla e comprenderla, siano molto stabili e non soggetti al cambiamento. D'altra parte, è chiaro a tutti che noi per sapere cosa fare sul lavoro, per tutti noi, non è stato sufficiente ricordarsi bene quello che si è studiato, né spesso è stato di grande aiuto quanto appreso anche nelle esperienze di Stas. Come sottolineato recentemente dagli autori che hanno contribuito al filone di studi sulla complessità e sulla necessità di nuove strategie formative, ciò che serve nel nostro Paese è una nuova alleanza fra conoscenza e progettualità che ha nella formazione le chiavi centrali per affrontare con contributi innovativi, con nuove idee e con passione, le sfide che ci attendono. Occorre dunque tener conto che la formazione orientata alle specializzazioni e alle singole professionalità richiede inevitabilmente trasformazione dei paradigmi e dei modi di pensare che caratterizzano le scienze dei nostri giorni. Ce lo ha ricordato anche il nostro magnifico Rettore e non è più adeguata ad affrontare le condizioni create dalla crisi, dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione. Un secondo aspetto riguarda il fatto che per caratterizzarsi come comunità e non restare un semplice sistema o aggregato sociale, qualunque organizzazione o sistema sociale deve sviluppare il senso di comunità. Con questa espressione ci si riferisce al sentire comune che deriva dal fatto di percepirsi simili agli altri, di riconoscere l'interdipendenza esistente nella soddisfazione dei bisogni dalla volontà di mantenere tali legami. Perché tali legami sono essenziali da un punto di vista identitario, ma anche strumentale. Occorre dunque condividere una storia comune. Il termine comunità è inoltre da sempre ritenuto evocativo di una delle principali componenti, la partecipazione, intesa come il risultato della messa in rete di forze individuali e collettive. Come sostiene Amerio, la partecipazione deve consentire il recupero del mondo individuale nell'ambito di una comunità di relazioni e non solo di istituzioni. Concetto questo che implica il passaggio da una concezione del sociale fondata sul principio di prestazione a una che si basa sul principio di relazione e di interdipendenza. Lo sviluppo di comunità si sostanzia non solo in un più diffuso miglioramento del profilo sociale ed economico di una comunità, quanto piuttosto nelle azioni finalizzate a realizzare un processo di crescita del suo capitale umano, per quanto attiene alle capacità dei singoli e dei gruppi di organizzarsi e di reagire in modo adeguato al cambiamento. Secondo l'approccio macrofrondato di Putnam, il costrutto capitale sociale sostiene che la presenza di un tessuto associativo, articolato e cooperativo aumenta la fiducia generalizzata tra gli individui con effetti benefici sullo sviluppo economico del territorio e per l'intera collettività. Intendere il capitale sociale come bene comune significa dare rilievo a tutto il territorio, dove gli interessi individuali vengono superati dall'insieme di normi e valori che regolano i comportamenti e la convivenza fra gli individui che in essa vivono. Premessa di base questa per avviare un processo di community building. Quali sono i grandi obiettivi cui tendere i contenuti a connotazione psicologica e sociale da privilegiare per una nostra comunità rappresentata dal territorio in cui Onimora è inserita? Certamente la sostenibilità ambientale, la coesione e il dialogo sociale, la partecipazione responsabile, l'inclusione, la qualità dell'ambiente che significa, come ho già detto precedentemente, qualità delle relazioni. Occorre inoltre identificare nella community building un mezzo per aumentare la giustizia sociale, il benessere individuale e ridurre gli impatti negativi per i singoli individui e i gruppi sociali. Vi sono poi altri temi molto rilevanti da considerare e affrontare, ad esempio il tema della speranza e del come o del come ci si perfigura il proprio futuro che concerni i giovani laureati e non laureati in attesa o alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche i disoccupati, cassi integrati. Questo della prospettiva temporale non può essere considerato o visto solo come un tema di ricerca, qualcosa su cui indagare, produrre dei numeri, ma un problema da affrontare e risolvere perché la paura di non trovare soluzioni alle difficoltà, anche gravi, determinate dalla crisi attuale, comporta rischi pesanti a livello sia personale sia sociale. In assenza di risorse e con aspettative di realizzazioni di sé bloccate, ci si chiude in se stessi, si utilizzano strategie di soluzione dei problemi a connotazione individualistica, si rinforzano gli atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi negativi, aumenta la competitività e vanno in crisi i comportamenti altruistici. Le riflessioni di Amartya Sen sull'ingiustizia e sul benessere sociale richiamano il binomio speranza-fiducia. Il fatto che la speranza si crei sulla fiducia ci deve ancora una volta far riflettere sull'importanza e il valore dei concetti di comunità e di senso di comunità, cui ho fatto poc'anzi riferimento. In sintesi, si può affermare che la comunità serve allo sviluppo e che lo sviluppo serve alla comunità. Occorre un equilibrio fra ricerca e la sua applicazione. Si è discusso non poco, in un passato recente, sul rischio dei finanziamenti per la ricerca e la didattica proveniente dalle imprese, dalle aziende, dall'industria private, perché potrebbero porre l'università in una condizione di subordine, limitandone l'autonomia. Nell'ottica che viene qui proposta di lavorare insieme per la comunità, questo è un falso problema, perché l'autonomia delle università nello svolgimento dei propri compiti di ricerca avanzata e di formazione superiore non è in discussione. E dunque non solo è utile, ma necessario, direi se non fisiologico, collaborare in modo sinergico e cooperare con obiettivi sovraordinati in un'ottica di comunità allargata e competente. Per contribuire allo sviluppo della comunità più vasta, rappresentata dal contesto territoriale in cui è inserita, la nostra università deve avere la capacità di sviluppare letture critiche su se stessa, azione a questa che richiede nel contempo il riconoscimento dei propri bisogni e la capacità di mobilitare le risorse umane, economiche e politiche per soddisfarli. Questo approccio, che si fonda sul concetto di comunità competente, è anche utile per affrontare il rapporto e il problema fra formazione e lavoro. Il workplace learning è una delle modalità esistenti, così come l'apprendistato può essere utilizzato come modalità per imparare a fare. L'opportunità di imparare sul posto di lavoro e acquisire qualifiche on the job richiede sia un'integrazione dello sviluppo individuale e dell'organizzazione, ma anche il riconoscimento di quanto appreso sul campo, cioè richiede una validazione delle competenze acquisite. Quale dunque il contributo che possono dare la psicologia e le scienze sociali? Ognuno di noi porta con sé il proprio bagaglio di conoscenze e di competenze acquisite, che tuttavia non possono essere sempre applicate e utilizzate nei vari contesti in cui ci troviamo ad operare. A fronte anche degli imponenti cambiamenti culturali in atto, è infatti sempre più evidente la necessità di essere attrezzati attrezzati per agire in situazioni, in contesti, in mondi che non conosciamo o che non padroneggiamo. Occorre pertanto ripensare le conoscenze, il saper fare e il saper essere rispetto ai vari ambienti, alle varie situazioni. Ed è soprattutto necessario tenere conto che l'esperienza, seppure sicuramente di aiuto quando si deve agire in contesti sconosciuti, non sempre è sufficiente per fronteggiare le difficoltà personali incontrate, in tali contesti. Se consideriamo l'obiettivo di integrare diversamente da come si è fatto finora università e mondo del lavoro e dei servizi, salvaguardando le rispettive autonomie, possiamo e dobbiamo tener conto del fatto che la psicologia offre molteplici ausili per aiutare a capire meglio i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, a prendere coscienza di cosa succede quando si ha paura del cambiamento, a come fronteggiare in modo adeguato questo cambiamento, a come ristrutturare il proprio sé e la propria identità, sia personale, sia sociale, sia professionale, e dunque ad acquisire capacità di fronteggiare adeguatamente situazioni e condizioni mai esperite che richiedono di fare i conti con l'adattabilità, la resilienza, il cercare di ristabilire il proprio stato di benessere. Nella formazione occorre contribuire allo sviluppo delle competenze personali, psicosociali e relazionali e realizzare interventi di empowerment concentrati su tre obiettivi prioritari. Promuovere l'autostima, fornire gli strumenti per aumentare le competenze, sviluppare la creatività per produrre e intraprendere cambiamenti. Un obiettivo di chi fa formazione ma anche di chi sul lavoro ha a differenti livelli un ruolo di responsabilità nella gestione delle risorse umane deve essere quello di dare un contributo per rendere le persone e i gruppi più empowered e per diminuire il livello che viene definito col termine di learned helplessness cioè l'incapacità di affrontare eventi che caratterizza chi esposto a continue e ripetute esperienze di insuccesso apprende a non esercitare controllo sugli avvenimenti. L'intervento di empowerment punto di ascolto attuato in forma sperimentale e offerto agli studenti di scienza della formazione ha dato risultati significativi e può essere considerato un servizio che l'Ateneo potrebbe attivare fornendo agli studenti l'opportunità di accrescere il proprio self empowerment. Come fa notare Sarchielli circa gli ambiti lavorativi ci sono aspetti estremamente rilevanti da considerare come ad esempio il fatto che i manager i responsabili e i coordinatori cioè gli agenti che incarnano l'organizzazione assumono oggi un ruolo decisivo essi costituiscono infatti il riferimento principale per lo sviluppo di un'interazione significativa soprattutto nei contesti caratterizzati dalla complessità dei compiti e dall'ampia diversità delle persone che li svolgono. Nella condivisione di aspettative circa gli obblighi reciproci che una relazione di scambio deve comportare sul lavoro il contratto psicologico tra individuo e organizzazione assume pertanto una rilevanza significativa. Fra le variabili che in riferimento al lavoro hanno connotazioni fortemente psicologiche e sociali mi limito qui a citarne alcune quali la creazione di un legame con il lavoro il recupero del tema del valore del lavoro e della sua attrattiva la condotta di cittadinanza organizzativa il livello di commitment e l'assunzione della responsabilità nello svolgimento dell'attività lavorativa le ragioni per cui ci si deve impegnare hanno una forte connotazione psicologica e sociale anche i processi decisionali e la percezione del rischio l'ergonomia e i fattori umani come ad esempio l'interazione persona-macchina e tecnologie i tempi di lavoro i climi lavorativi la percezione di sostegno organizzativo lo stile di coordinamento e di leadership l'analisi organizzativa multidimensionale uno strumento questo di lettura della realtà organizzativa che opera parallelamente fra le due direzioni della conoscenza e del cambiamento contribuendo ad accrescere le competenze dell'individuo e del collettivo un riferimento non eludibile è quello che concerne il diversity management una strategia di gestione delle risorse umane sempre più utilizzate in ambito aziendale che considera la diversità come una risorsa da valorizzare più che come un problema da risolvere tra i differenti elementi che questa strategia dovrà inevitabilmente prendere in considerazione vi è quella del rapporto interculturale e intergenerazionale sul lavoro lo spostamento progressivo dell'età del pensionamento dovuto anche all'aumento delle aspettative di vita metterà a contatto giovani lavoratori con valori aspettative linguaggi che sono molto diversi e discordanti da quelli delle generazioni precedenti con il rischio di attivazione di conflitti di stereotipi di pregiudizi negativi e di non valorizzazione delle esperienze e competenze determinate dall'età un'ultima accenne rivolta al rilevante fenomeno dell'immigrazione dell'intercultura e dell'integrazione tematica oggetto degli studi e delle ricerche che facciamo nell'ambito del Rimi Lab un centro di ricerca interventi del dipartimento di educazione e scienze umane la sempre la sempre maggior presenza di lavoratori immigrati nelle aziende del nostro paese del nostro territorio richiede di individuare sia le chiavi di lettura in grado di farci capire come si articolano i processi interculturali e intergruppi nei contesti di lavoro sia i fattori che influiscono nel creare climi aziendali positivi nel migliorare il sistema organizzativo e la soddisfazione sul lavoro come dimostra le ricerche che abbiamo realizzato in tre grosse aziende cooperative reggiane i cui risultati sono stati pubblicati nel volume lavorare insieme questo approccio si è rivelato estremamente utile per comprendere e gestire la complessa realtà degli ambiti lavorativi multiculturali fra le scienze sociali e la psicologia sociale di comunità sono quelle che maggiormente possono contribuire sia alla transizione alle transizioni tra organizzazioni gruppi e individui sia allo sviluppo e valutazione degli interventi finalizzati ad aumentare le opportunità psicosociali degli individui crescita questa definita accordo psicosociale che consiste nell'incontro tra le aspettative aspirazioni dell'individuo e le richieste risorse ambientali disponibili nel territorio questo approccio interazionista questo approccio interazionista è mutuato oltre che dalla teoria generale dei sistemi e oltre che dalla teoria generale dei sistemi anche dalla human ecology e dalla psicologia ambientale e sociale per le quali la comunità come sistema è qualcosa di più della somma delle sue parti un dato certo un dato è certo non possiamo non gestire il cambiamento in atto che pone richieste di formazione non tradizionale a fronte di un mutamento delle professioni e delle esigenze che provengono dal mondo del lavoro ci sono azioni che siamo forzati a fare azioni che possiamo attivare e temi su cui riflettere come ad esempio l'impegno dell'università per quanto riguarda il lifelong learning uno spazio su cui possiamo e dobbiamo a mio parere intervenire in forza anche del fatto che possiamo contare nel supporto di un centro di eccellenza quale è il centro e-learning di Ateneo le scienze sociali sono dunque rilevanti quanto al contributo che possono dare al benessere e alla coesione della comunità in particolare la psicologia ci aiuta fra l'altro ad imparare ad accettare i dati di realtà ad agire nonostante i vincoli ad accrescere l'autostima a prendere coscienza che occorre lavorare su di sé per aumentare il livello di empowerment per poter accettare il cambiamento e fronteggiarlo nell'ambito di una comunità coesa caratterizzata da un alto senso di appartenenza e da un elevato grado di consistenza sociale è necessario che si persegua come obiettivo la promozione del sostegno sociale alla comunità tutti noi insieme possiamo dare un segnale forte di cambiamento sottolineando come sia indispensabile essere socialmente più consistenti per contribuire alla comprensione e al miglioramento del rapporto fra uomo e ambiente facendo leva sulla competenza e la forza che le organizzazioni sociali e produttive hanno nel fornire sostegno agli individui una prospettiva psicosociale questa che richiede di porre l'accento non solo sull'individuo sulle strutture sociali o sulle organizzazioni ma sull'interazione tra i diversi livelli rappresentati dagli individui dai gruppi dai sistemi e dalle reti di sistemi esistenti nella nostra realtà territoriale grazie grazie a tutti